attiva i tuoi neuroni per rendere subito il 47 per cento in più nello studio ciao qui stefano di benedetto e benvenuto a questo video ora se sei una persona che studia i problemi che puoi avere sono sostanzialmente tre primo problema sei lento o lenta e vuoi velocizzare secondo ti impegni tanto ma ahimè i risultati non sono all'altezza terzo ti distrai facilmente ora vediamo insieme come puoi risolvere tutti e tre questi problemi il primo sei lento e vuoi velocizzare ora in questo caso vuol dire che ti impegni i risultati arrivano e sono anche buoni magari ottimi ma impieghi troppo tempo insomma lavori duro ma alla fine della giornata guardi il numero di pagine che hai fatto e ti deprimi e ahimè se questo lo proiettiamo nel lungo termine magari perdi delle scadenze che ne so vai fuori corso oppure i tuoi non sono più risposti a mantenerti insomma le conseguenze possono essere varie secondo problema ti impegni tanto ma i risultati che ottieni non sono poi così buoni ora in questo caso vuol dire che non hai un metodo perfetto o meglio non è perfetto per quello che devi imparare fatichi troppo e quindi ti scoraggi perché i risultati non ti danno soddisfazione ora considera che la memoria o meglio l'apprendimento in generale è questione di metodo quello che ti serve e che nessuno forse ti ha mai insegnato è come studiare come apprendere ma non solo anche come ricordare perché è perché non si possono studiare formule tecniche scientifiche con lo stesso metodo con cui si studiano che ne so concetti giuridici economici o testi umanistici letterari quello che ti serve è un metodo personalizzato che funzioni per te terzo problema ti distrai facilmente allora qui a parte distrazioni causate da tue continue incursioni sui social o cose del genere parliamo seriamente ti è mai capitato di leggere e dopo un po scoprire che mentre leggi in realtà con la mente stai pensando a tutt'altro è in questo caso ti serve una tecnica di concentrazione anzi spesso non basta perché ci vuole una tecnica di super concentrazione e quella ti garantisco che fa tutta la differenza del mondo perché puoi arrivare a rendere anche 50 minuti per ogni ora di studio fatti tu i tuoi calcoli ora quello che ti propongo è provare gratuitamente un programma di allenamento neurologico che ho chiamato pillole di memoria inizierai con divertenti esercizi di neurobica che poi sarebbe l'aerobica della mente esercizi che di fatto ti coinvolgono in piccole sfide quotidiane divertenti che in meno di 5 minuti ti risveglieranno decine e decine di migliaia di neuroni è facile adatto a tutti io ti consiglio provalo e già in pochi giorni noterai un netto aumento della tua elasticità mentale in questo programma di allenamento ci sarà solo il 10 per cento di teoria un minimo ci vuole il resto il 90 per cento è tutta tutta pratica ci saranno video dove imparerai ad esempio come concentrarti e ricordare qualsiasi numero termini tecnici nomi di persone ma ora non voglio svelarti di più lascia semplicemente il tuo nome la tua mail e tra qualche minuto ci vediamo dall'altra parte ok un brillante saluto e a presto